Il tema del paradosso, dello scherzo, del gioco o del non senso, altro tema tipico di TikTok, sono molto forti. È chiaro che un'azienda, per rimanere nel mondo del marketing, un'azienda che è abituata agli altri social fa fatica a capire come si si muove in questo. Ciao Paolo, benvenuto. Ciao Claudia, grazie a te di avermi invitato. Chi è Paolo Schianchi? Paolo Schianchi nella realtà fisica si occupa di Visve Communication and Interaction Design, infatti ho la cattedra di questa materia, professo dell'Università Jusve di Venezia e Verona. Inoltre collaboro con diverse aziende particolari e multinazionali con le quali ho delle consulenze in cui mi occupo proprio di comunicazione visiva del loro marchio oppure legata al mondo del marketing. Poi esiste un altro a me che è quello invece che magari di più conoscono, che è quello virtuale e che io mi diverto a costruire di volta in volta sui social, per cui mi permetto lì di giocare anche con elementi che non sono miei o che non mi appartengono alla vita reale che però li posso anche portare fuori. Quest'immagine virtuale quindi si incontra con la tua immagine reale? In un certo senso si sovrappongono perché ovviamente io non posso essere diverso da me, però da un altro punto di vista mi permette anche di ricordarmi ogni volta che quello che io vedo nel web non è la realtà. E quindi in questo piccolo gap che si crea tra l'immagine reale e l'immagine virtuale io mi permetto di giocarci, proprio anche per fare le sperimentazioni legate al mio campo di indagine e di ricerca. E come mai tanti dicono virtuale e reale? Dipende da quello che noi facciamo, cioè virtuale e reale perché in questo momento ci troviamo nella famosa fosfera, cioè nella globalizzazione di internet, per cui la nostra interazione con il reale e con il virtuale è costantemente in aggiornamento. E noi cerchiamo di lavorare, anzi la maggior parte di noi, cosa fa? Interagisce con il web utilizzandolo in senso reale. Io, che invece faccio un altro mestiere, che vi occupo di questa materia da ormai da quasi vent'anni, ne conosco anche i bug, per cui in quella, concedimi interferenza tra reale e virtuale, mi permetto di giocarci, cioè attraverso quelle che possono essere le esagerazioni come l'attivismo digitale, cioè creare di me ogni volta che entro nel web un'identità completamente diversa, in modo che i big data vadano in crash, per cui se ogni volta che io mi muovo gli do delle informazioni completamente diverse di me, i big data a quel punto vanno in confusione e non capiscono più chi sono. Oppure a volte gioco con i chatbot, che è un po' come se fosse il mio videogioco serale. Li sfido a vedere chi dei due per primo va in crash. Per cui, conoscendo la logica dei chatbot, che sono un pensiero artificiale, che risponde a domande reali, quindi il famoso reale è virtuale, ma se io continuo a dargli confusione e a dirgli che prima che sono grasso, poi che sono magro, poi che in realtà sono biondo, poi che sono moro, poi che sono un uomo, poi che sono una donna, a un certo punto va in confusione e cerco di mandarli in crash. Quindi è in questo senso che voglio anche mantenere una distanza tra la realtà e la virtualità. Cioè le due sono importantissime per quello che ci riguarda, ma sono anche due aspetti completamente diversi della realtà. Ti faccio un esempio per entrare nel mondo, nel mio mondo, che è quello delle immagini. Ad esempio, street view. Noi lo consideriamo la fotocoppia della realtà, ma non è la fotocoppia della realtà. In realtà quando noi andiamo a vedere una strada, quella davanti a casa tua, e tu la vuoi vedere, ti sembra di vedere la realtà, ma in realtà stai vedendo un insieme di milioni di fotografie che ricompongono un momento ideale della strada in cui tu abiti, e non la strada in cui tu abiti. E questa è una differenza sostanziale, specialmente nel mio campo, che è quello della comunicazione divisiva, per poter poi interagire con questo mezzo. In questa quarantena ti ho visto molto attivo sui social, con TikTok, e questa cosa mi ha affascinato tantissimo e volevo che tu ne parlassi. È una cosa che è iniziata ormai da 9-10 mesi. Cioè 9-10 mesi fa ho iniziato a studiare questa nuova applicazione cinese per capire che cosa succedeva, che cos'era. Credo che come tutti il mio primo momento di ingresso su TikTok sia stato un po' di dispaesamento. Cioè la mia domanda è stata ma cosa stanno facendo? Che cos'è? E però proprio questo fatto di non capirlo è stato quello che mi ha spinto ad andarlo a studiare. Cioè mentre con gli altri social che sono nati dopo Facebook o Twitter, era tutto molto logico, veniva tutto molto facile. Tu entravi e capivi subito come funzionava. In questo caso invece sono entrato e non capivo, eppure mi occupo di questa materia da tanto tempo. Allora la mia domanda è stata, qui siamo in un momento di cambiamento. Cercherò di capirlo. Poi ovviamente il lockdown è venuto in un certo senso a mio vantaggio, se così si può dire, perché io vivendo da solo, dovevo farmi compagnia, stavo studiando TikTok e quindi in quel periodo ho veramente sperimentato tanto TikTok. Perché ne ho iniziato a capire il linguaggio visivo, che è proprio un cambiamento sostanziale rispetto agli altri social. Che poi abbia successo meno, questo non fa parte del mio campo d'indagine ovviamente, no? E non mi interessa se andrò a sostituire o meno gli altri social. Quello che è certo è che ha creato un nuovo linguaggio visivo, tra l'altro con le immagini in movimento anziché le immagini statiche, che da qui in poi influirà su tutti gli altri media. Cioè per cui gli altri media stanno cercando di rincorrere questo nuovo linguaggio. Tieni presente che gli stessi numeri, voglio dire, lo confermano TikTok in questo momento, è uno dei social più seguiti in assoluto, non tanto con persone presenti, ma con persone attive. Faccio l'esempio, Facebook ha sicuramente molti più utenti, ma molti meno utenti attivi. Per cui in realtà è una cosa che dal punto di vista della comunicazione, io che voglio invece interagire con le persone, ovviamente per me è importante, perché vuol dire che sì, posso avere un milione di fans su Facebook, ma in realtà di fans attivi ne ho un quarto. Dall'altra parte invece ho magari meno fans che mi seguono, ma sono tutti attivi, e quindi posso entrare in comunicazione con loro. Tra l'altro c'è stato anche un enorme cambiamento con il lockdown, perché i dati ad esempio di fine febbraio, quando ho fatto proprio uno studio e una ricerca proprio statistica in università, la maggior parte degli utenti di TikTok aveva una media di 27 anni, no scusami, 32 anni, e con un'età inferiore di 7 anni rispetto agli altri social, detto in parole molto semplici, in realtà era tutta la generazione Z che era presente, quindi tutti i giovani. Con il lockdown invece è stato scoperto anche da tutti gli over, per cui in realtà in questi due mesi in tanti sono entrati in questo social e hanno iniziato a scoprirne il lessico visivo, hanno iniziato a capire come interagire, come fare, come muoversi, come comunicare in un certo senso, no? Come utilizzare ad esempio il tema del paradosso, che è tipico di TikTok, e come entrare in relazione soprattutto con noi stessi, perché ad esempio il tema del selfie, che arriva da Instagram per capirci, su TikTok diventa invece il tema del mi filmo, quindi sono io che mi riprendo e non ho più il tempo di cercare la posizione perfetta, la luce perfetta, lo smartphone dal basso, dall'alto, ma mi devo muovere e muovendomi escono i miei pregi e i miei difetti e anche questo cambia tantissimo. Ha cambiato ad esempio anche la visione delle persone, se io vado a vedere come ci rappresentiamo in quella app, non siamo più schiavi della bellezza canonica o standardizzata, cioè non ne sono più, tutti devono essere belli, biondi e con gli occhi azzurri, ma anzi se hai dei difetti, più delle volte sono l'elemento che mette assolutamente, che tutti mettono in risalto. Cioè io stesso, avendo avuto il primo momento un po' di imbarazzo, perché comunque arrivare su un social di concedimi i ragazzini a comunque un'età, cioè 54 anni, non era molto, molto facile, no? Avere anche questa dimestichezza con quello che succede. Poco alla volta, come dico, a un certo punto ho perso la dignità, non so come dire, ho perso ogni remora, ho superato, forse ho superato lo scoglio anche della mia figura e ho capito che quelli che erano i miei difetti potevano essere i miei pregi e questo forse me l'hanno insegnato i ragazzi più giovani, cioè dicendomi, va bene, ok, non sei bello, chi se ne frega, non sei pettinato, chi se ne frega, cioè non hai la tartaruga, chi se ne frega, puoi essere anche qualcosa di diverso. E questo anche dal punto di vista sociologico è molto interessante. Quindi c'è interazione su TikTok? Allora, l'interazione sì, ce n'è, ce n'è tanta, perché c'è una chat room dove tu, quando pubblichi un video, le persone possono interagire con te, parlare con te, chiederti cose. Ad esempio, io mi sono ritagliato appunto, quando dicevo all'inizio, una delle mie tante identità web, no? In quel caso io, per darmi un'identità su TikTok e non essere invasivo verso il pubblico, ovviamente, giovane che c'era, mi sono presentato come un professore che sta studiando la app. Come io ho fatto coming out in questo senso, dicendo sono un professore, mi occupo di questo, mi date una mano. E mi sono messo allo stesso livello delle persone che hanno lì presente, cioè non mi sono messo nel livello del sono dall'altra parte della cat, ma sono con voi qua per capire. In quel momento loro hanno iniziato a interagire con me tantissimo, facendomi tante domande e dandomi anche tante risposte. E quindi si è creato a quel punto non solo una fiducia reciproca, ma soprattutto anche un grande interesse verso la mia materia, che, tieni presente, parlando di ragazzi, diciamo prevalentemente liceali o dei primi anni dell'università, non sapevano cos'era la visual communication, cioè per loro, o la visual literacy, cioè sono materie che si affrontano negli ultimi anni del percorso di studio universitario. Eppure si sono interessati, hanno iniziato a farmi domande, io gli avevo le risposte e a questo punto per loro ormai sono diventato il punto di riferimento. È chiaro che ho dovuto comunque entrare in un sistema di comunicazione diverso, cioè rispetto, ad esempio, anche rispetto, pensa a YouTube oppure i LinkedIn, dove tu sei il guru. Quindi tu arrivi, se ti pensi, il classico di LinkedIn o di YouTube, c'è la persona autorevole che entra, pontifica, ti dice, si fa così, cinque mosse e diventi super figo, cinque mosse e diventi ricchissimo. Abbiamo scoperto che non è vero, perché altrimenti non sarebbero lì a dirlo, ma sarebbero a godersi i loro soldi ai Caraibi. Qua non è più possibile. Qua ormai abbiamo un pubblico che è molto più giovane, che usa una parola un po' dialettale, più sgamato, quindi conosce già i segreti del web, e il guru non gli interessa più. Hanno capito che non è più in questo senso che si fanno le cose. Hanno capito che bisogna lavorare in un'altra direzione. E non solo. Anche dal punto di vista visivo è cambiato, perché sono tutti consapevoli, ad esempio, che su TikTok, che quello che filmano non è la realtà. Cioè non è una presa diretta, un real time, per intenderci. Sanno benissimo che questi filmati di 15 secondi sono costruiti per frame. Quindi dicono, è così che mi voglio rappresentare e con cui mi diverto a farlo. Quindi è una sorta più vicina al cinema. Alla finizione cinematografica, ma sono molto creativi, sicuramente, ma anche molto consapevoli che quello che vedono non è la realtà. Quindi capisci che se io voglio entrare con un prodotto, devo entrare uno non pontificando, non dicendo, il mio prodotto è il più figo della Terra, perché immediatamente ti dicono no. E secondo, sanno che quello che tu gli stai facendo vedere non è la realtà, ma è una costruzione visiva legata alla realtà. E quindi come si promuove un prodotto su TikTok? Perché adesso mi hai incuriosito. Come si promuove un... Questa è una domanda complessissima, ci vorrebbero ore per darvi. Però diciamo che i principi sono, uno, imparare il lessico visivo di TikTok, che è fatto di transition, è fatto di lip sync, è fatto di balletti, è fatto di tutta una serie di cose con quelle che voi andate a vedere, che chi va su TikTok vede. Le transition sono quei filmati che potete andare a vedere, che vedete su TikTok, dove c'è una persona che cammina e mentre cammina cambia d'abito, che sono costruite con tutti dei framing in cui ci si cambia e via dicendo, a volte lo si fa anche ballando, cioè io sto ballando, sono così e poi quando sono così ho una camicia diversa e poi quando sono così ho un'altra camicia oppure ho il cappello, mi cambiano gli occhiali. Quindi quelle sono le transition oppure faccio così e quando sono qua mi appaiono le bratelle. I lip sync invece sono delle frasi anche divertenti che ci sono nella libreria musicale di TikTok, su cui tu fai lo speaker, cioè fingi di dire quello che dice la persona. Però qual è il gioco divertente in questo caso? Il fatto che tu puoi usare una frase, ce n'è una famosissima, sono in live, spegnete la tv per favore, sì grazie, è un classico di TikTok che però tutti poi interpretano in modo diverso e ognuno gli dà l'interpretazione che vuole. Poi ci sono i balletti classici, quelli che credo sia il motivo per cui si conosce maggiormente TikTok. Tieni presente che questi sono un po' il lessico visivo che tu puoi utilizzare all'interno di TikTok. E poi c'è il fatto che TikTok è diviso tra seguiti e i per te. Quindi è il gioco, quello è cercare di finire nei per te. Perché se finisci nei per te, l'algoritmo di TikTok ti indicizza con tutte le persone che sono su TikTok. Per cui ti faccio un esempio. Il mio cambiamento su TikTok è stato, avevo circa, secondo me, 53 persone che mi seguivano, cioè un numero bassissimo. Ho azzeccato, dopo aver studiato tutte queste cose, finalmente il video giusto e ho fatto con quel video quasi 400.000 visualizzazioni. È un numero esorbitante, ma perché? Perché in realtà a quel punto avevo capito come si finiva nei per te. E da quel momento ho cercato di lavorare proprio ingannando, se vuoi, o comunque seguendo le logiche dell'algoritmo. In questo modo, ovviamente, più gente mi vede. Allora, qual è il segreto per un'azienda? Giusto? Che è la domanda che credo che sia un po' la ciccia che interessa in questo caso. È capire principalmente il linguaggio, capirne l'algoritmo, ma soprattutto quello che deve capire un'azienda se vuole entrare su TikTok è che non è lei che crea i contenuti. Ma i contenuti sono creati dagli utenti. Un cambiamento, se vuoi, epocale dal punto di vista della comunicazione. Perché non sei più tu che dici questo è il mio format, ma tu dici questa è la struttura del mio format. Poi, signori, fate voi tutte le vostre varianti su questa struttura. Ti faccio un esempio, sempre per essere chiaro, qualche mese fa c'è stato una challenger, altra parola tipica di TikTok, cioè tutti devono fare una cosa appunto su un qualcosa di dato, lanciata da Chupa Chups e milioni di persone hanno fatto video con, immaginati anche il numero di visualizzazioni, con il Chupa Chups. Per cui a quel punto non è stato a Chupa Chups a fare milioni di visualizzazioni, ma è stato tutti gli utenti che per un mese tu andavi su TikTok e vedevi solo persone con in mano il Chupa Chups. Capisci che a quel punto dal punto di vista comunicativo è stato pandemico, no? Perché ha raggiunto tutti, anche senza la guida dell'azienda stessa o meglio l'azienda stessa in realtà ha dato l'input di partenza, cioè la struttura. Dovete usare il Chupa Chups e dovete usare questa musica che vi do. Poi voi fate quello che volete. Teni presente che quindi anche di questi video, no? Alcuni saranno finiti, non saranno mai finiti nei per te, ma molti saranno finiti nei per te. Quindi il numero di visualizzazioni del brand in questo caso è stato tantissimo e in un certo senso a volte non dicevo anche a lezione, oppure pensate semplicemente che per fare tutti quei video se tutti hanno comprato almeno un Chupa Chups sicuramente ne ha venduti tantissimi. Dall'altra parte c'è ad esempio molto utilizzata sempre su TikTok e che è molto virale tutta la comunicazione di tipo sociale. Ad esempio essendo la generazione Z molto attenta ai temi sociali ovviamente tutte le comunicazioni di tipo sociale diventano sempre molto virali. E di nuovo cosa succede? Tu mandi un format cioè dici questa è una struttura voi fate tutto quello che volete. Sicuramente adesso è il momento per le aziende diciamo di grande di grande consumo. Ok? forse un po' meno per quelle di nicchia perché teniamo presente che quando tu hai un effetto così esponenziale poi il prodotto deve essere acquistabile nel posto più vicino. C'è anche già la comunicazione invece di tipo giornalistico e c'è anche già la comunicazione invece dei musei. Due esempi su tutti per il giornalismo io consiglio di seguire Fanpage che sono bravissimi in un minuto tutti i giorni danno la notizia e le notizie del giorno su TikTok e sono bellissime perché è anche lì un nuovo modo di comunicare perché pillola di un minuto e spiegare il lockdown in questo momento era difficilissimo eppure loro con la tecnica di TikTok divisiva di TikTok si sono riusciti benissimo oppure ad esempio il Washington Post che invece racconta la vita di redazione cioè spiega ai giovani come nasce una notizia quindi pensate anche dal punto di vista giornalistico quanto è interessante perché non ti va a spiegare la notizia ma ti spiega come nasce una notizia perché che non sia una fake news oppure è riapparsa due mesi dopo e capendo il linguaggio di TikTok ha iniziato a spopolare anche su questo social cioè è cambiato il suo atteggiamento non è più la donna glitterata inavvicinabile super glamour lo è sempre però dico sempre ad esempio uno dei suoi primi video c'è lei che mangia una pasta asciutta alla carbonara con un abito Chanel però ecco che ha cambiato comunque il modo di vedere le cose oppure gioca molto con il marito con il figlio per cui si è messa in una condizione completamente diversa rispetto a quello che è invece Instagram cioè ne ha capito anche lei il messaggio e lo ha scusate il linguaggio e lo ha decodificato secondo ovviamente quello che è il proprio business quindi devo dire di nuovo tanto di cappello perché comunque come sempre si dimostra una persona che segue i tempi il tema del paradosso dello scherzo del gioco o del non senso altro tema tipico di TikTok sono molto forti è chiaro che un'azienda per rimanere nel mondo del marketing un'azienda che è abituata agli altri social fa fatica a capire come si si muove in questo cerca di entrare con il linguaggio degli altri social ma fa dei flop perché non viene capito ti faccio un esempio sempre io nei miei esperimenti visivi che ho fatto in questi mesi per capirne il linguaggio che ho fatto anche in università perché comunque io ho aperto una ricerca universitaria su questo tema ti faccio una piccola parentesi quando l'ho proposta mi hanno detto ma perché dobbiamo finanziarti una ricerca per andare a fare dei balletti io ho detto no non vado a fare i balletti ma vado a studiare questo poi hanno capito e ovviamente la ricerca è andata avanti ho dei studenti che con me fanno proprio le ricerche le indagini per avere dei dati chiari però io ho visto che ad esempio molti video che io faccio su TikTok e hanno molto successo su TikTok quando li condivido sugli altri social non hanno nessun tipo di riscontro mi dicono cosa fai cos'è quando invece faccio dei video che non hanno successo su TikTok perché capita a tutti negli esperimenti capita anche l'esperimento che sbagli e poi io lo riporto invece sugli altri social e sugli altri social non è successo quindi cosa ho capito in questo intreccio basic che quando io sbaglio su TikTok è perché uso il linguaggio degli altri social quindi questa commissione è ancora molto aperta cioè c'è ancora una divisione molto aperta anche perché non tutti hanno voglia di apparire sciocchi di apparire hai capito come dico io di perdere la dignità in un certo senso cioè non tutti ne hanno voglia non tutti sono predisposti verso questa cosa soprattutto magari persone che hanno creato il loro successo proprio su invece un'affermazione molto rigida di se stessi quindi è difficile poi cambiarla radicalmente torno all'esempio della Ferragni lei c'è riuscita invece è riuscita a fare questo passaggio probabilmente non è stato difficile anche per lei non è stato naturale però questo è complicato dall'altra parte gli altri social in un certo senso inseguono TikTok no? fatto sta che se tu vai su Instagram ormai ci sono più TikTok che foto di Instagram cioè molti molti ormai su Instagram condividono i loro TikTok Instagram con le sue storie sta cercando di acquisire gli effetti di TikTok però in questo caso ci troviamo in una diatriba molto più grande di noi cioè social americano social cinese quindi ci sono in realtà suppongo delle diatribe in ordine di chi raccoglie i dati no? perché tanto sappiamo tutti che nel momento in cui vai su un social stai vendendo i tuoi dati a qualcuno o regalando i tuoi dati a qualcuno vendendolo o regalando però questa cosa sicuramente è molto è molto forte in questo momento no? perché è un po' un rincorsi da una parte all'altra se tu pensi quello che dicevo all'inizio che Facebook ha perso tante persone non più attive e si sono riversate su TikTok però sai TikTok a questo punto non permette più ai capi di Facebook di andare a vedere cosa fanno perché lo capiscono i cinesi quando io sono andato per la prima volta su Facebook quindi ho scoperto Facebook che era appena arrivato in Italia ok? è stato uno dei primi ad avere l'account infatti non avevo neanche amici italiani quando ero su Facebook perché ce n'erano pochissimi ovviamente in quel momento era il social dei ragazzini che hanno iniziato ad utilizzarlo a giocarci questi ragazzini adesso sono diventati dei 35 anni 40 anni e capite? cioè sono diventati grandi e hanno portato quel mezzo verso una loro identità visiva la nuova generazione i loro fratelli più piccoli hanno cosa hanno fatto? sono andati su un social completamente diverso e hanno inventato un nuovo modo di comunicare allora secondo me il problema non è se è generazionale perché comunque è sempre generazionale come è stato generazionale Facebook è stato generazionale Instagram è stato generazionale LinkedIn e via dicendo in realtà è come io comunico cioè le immagini in movimento sono una nuova frontiera che oggi dobbiamo imparare a conoscere perché per fartela molto semplice io ormai seguendo no? anche tanto sempre durante il lockdown ho anche visto tanta televisione la sera per intrattenermi io vedevo tante comunicazioni pubblicitarie che erano mutuate da TikTok quindi il linguaggio è già arrivato anche al mondo della pubblicità allora forse iniziare a capirlo è importante no? non è più così ristretto a un mondo piccolo ma è un mondo che invece si sta sempre più allargando e forse la differenza di TikTok è che non ha ancora identificato bene qual è la fase 2 mentre Facebook ormai la sua fase 2 l'ha ben stabilizzata ormai su Facebook se non hai più di 50 anni non so cosa ci vai a fare proprio per essere molto molto pratici no perché ormai una volta ridendo lo dico cioè ormai Facebook è diventato il nuovo luogo degli anziani che guardano i cantieri sono tutti lì a guardare cosa fanno gli altri a lamentarsi a dire che loro l'avrebbero fatto meglio e via dicendo quindi tutti gli over 50 o 60 sono lì che si lamentano con le mani dietro la schiena e che si lamentano che gli altri non fanno mai le cose fatte bene il mondo di Instagram ormai è un mondo per 30-40 anni ok per la generazione appena prima che sono nella fase dei bambini e se vai su Instagram cosa vedi e dei bambini e le feste dei bambini e le mamme per bene e i tramonti e la pelicena quindi un mondo un po' glitterato ideale che si è congelato dentro questo social creando quello che io chiamo un nuovo perbenismo visivo cioè deve essere tutto per bene deve essere tutto un po' è un po' vittoriano in un certo senso e i fiorellini e la signora al pianoforte e la ragazza che suona il jazz cioè quindi in realtà ha preso questo aspetto molto più per bene edulcorato un po' chic andiamo indietro noi ci spostiamo quindi in una generazione più giovane che non ha più modo di ribellarsi come negli anni 70-80 ad esempio con i vestiti anni 70-80 la ribellione giovanile come è avvenuta è avvenuta con gli hippie e i punk no? quindi come si sono ribellati con gli adolescenti in quel modo con il loro modo di mostrarsi all'interno della società ovviamente oggi non sei più per strada non ne sei più nella società ma la società è il web e allora la ribellione è avvenuta su TikTok creando un nuovo modo di vedere l'esempio che ti facevo non è a caso io mi ricordo che ero adolescente che i primi punk che si vedevano nella mia città erano un po' schifati dalla gente li guardavano lontani e la mamma ti diceva non andare con quella persona che ha i capelli blu che era uno shock ok? a quei tempi saliva sull'autobus e la gente si ritraeva io mi ricordo queste scene poi nell'arco di dieci anni è diventato una moda che ci vestivi i bambini metti il chiodo con le borche a tuo figlio oggi ok? quindi quella che era una rivoluzione è poi diventato un modo di vivere ecco di nuovo se vado su TikTok adesso è una rivoluzione quella rivoluzione come faccio a trasformarle in un linguaggio spendibile sul mercato ecco questa è la ricerca che sto facendo e che un po' adesso grandi linee che ho anticipato sono un po' i risultati teniamo presente che in Italia è arrivato da un anno cioè ha un anno di vita in Europa ha avuto un boom esponenziale ma ha un anno di vita cioè in Italia voglio dire in realtà musicali c'era da prima in Cina c'è già da tempo in Cina ad esempio c'è già anche l'e-commerce legato a TikTok quindi quasi tutte le aziende hanno già l'account TikTok in cui vendono una funzione che in Italia che in Europa non c'è e che magari gli stessi suppongo padroni di TikTok proprietari di TikTok aspettano che ci sia tanta gente per poi attivarla anche in Europa e a quel punto non bisogna farsi trovare impreparati perché il rischio è quello di entrare in un social senza capire il social cioè io mi sono reso conto che io per poterlo capire ho dovuto azzerare tutto quello che sapevo e ricominciare da capo cioè capire come funzionava cioè proprio facendomi ti dico proprio anche senza senza vergogna in alcuni casi facendomi aiutare dei ragazzini dicendo scusate io non ho capito come si fa questo ve lo spiegate e perché fate così e loro ve lo spiegavano in modo molto tranquillo dicendomi no guarda funziona così si fa così ed è questo se ma tieni presente che Charlie D'Amelio che è credo la tiktoker più famosa nel mondo credo si abbia tipo 56.000 fans adesso la cifra prendila con le pinze perché sto andando a memoria e potrei sbagliare Charlie D'Amelio comunque già guadagna delle cifre esponenziali come influencer perché un suo tiktok come minimo raggiunge 2 o 3 milioni di persone cioè parliamo di numeri che gli altri social ancora sono gli altri social sono impensabili quindi per conoscerlo meglio diciamo per imparare il linguaggio cosa conviene iscriversi e fare le prove sul capo per imparare bisogna iscriversi iniziare a guardarlo passare tanto tempo a guardarlo iniziare a fare delle prove prove su prove su prove e iniziare a superare quella che io dico la paura e la vergogna della telecamera perché lì devo dire la paura di perdere la dignità è molto forte quindi questo io capisco che è molto difficile anche perché tiktok funziona bene se c'è la figura umana tiktok tutto ciò che è poetico sai quelle cose tipo un po' da film con il fumo nero il bianco e nero lo dipenda lo cancella non gli interessa cioè si deve essere la figura umana quindi o tu o qualcuno per te perché voglio dire non hai detto che tu debba farlo in prima persona o qualcuno per te comunque una figura riconoscibile ci deve essere poi io sto già facendo dei corsi di tiktok con dei gruppi Paolo mi scrivo ci sono i corsi oltre al corso che io tengo in università che è visual communication il cui laboratorio adesso per i prossimi due anni è proprio dedicato a tiktok perché io comunque avendo i 24 25 anni non tutti sanno usare tiktok quindi l'alfabetizzazione in un certo senso visiva io devo farla comunque e diciamo che corsi di questo tipo io già ne tengo di alfabetizzazione visiva di alfabetizzazione verso la seo cioè per capire come come entrare come ad esempio come si indicizzano gli algoritmi perché quando tu entri su tiktok lui ti fa vedere la qualunque perché deve capire quali sono i video che ti interessano e gli argomenti che ti interessano quindi c'è un sistema per poterlo indicizzare in modo che tu possa vedere ed essere visto solo da chi ti interessa vi faccio sempre un esempio i primi tempi che io ero su tiktok mi capitavano tantissimi minorenni io che credo di avere un minimo di senso civile e avendo un'età adulta non mi sentivo di interagire con dei minorenni quindi ho indicizzato l'algoritmo in modo che mi escludesse tutti i minorenni e che io non apparissi più a loro io tutto ciò che al di sotto io l'ho eliminato perché tieni presente ci sono anche tanti bambini delle elementari che usano tiktok ma non c'è il minimo di 13 anni di iscrizione come se i ragazzini oggi non sapessero iscriversi barando sulla loro età ovviamente c'è il minimo di 13 anni ma è molto chiaro anche perché poi ci sono ad esempio anche tutte le mamme che adesso hanno imparato a fare i tiktok con i figli e i figli magari sono minorenni cioè la stessa Ferrari fa i tiktok con il suo figlio e il suo figlio non ha 13 anni quindi io però quel genere di immagini le voglio evitare ma proprio perché voglio che ci sia comunque un'etica precisa di ricerca cioè io sono lì per fare ricerca visiva e quella è la cosa che mi interessa mi interessano i trend mi interessano le aziende mi interessano i giornalisti mi interessano i tiktoker visto che questa è la parola al posto di influencer no mi interessano i tiktoker famosi cioè mi interessa conosciuto un ragazzo canadese completamente tatuato tutto il viso tatuato con delle scritte che è famosissimo è seguitissimo che in realtà è diventato l'influencer se mi concedi o il tiktoker di pool and beer per cui lui in realtà tutti i suoi tiktoker dove fa balletti un altro che fa balletti è sempre con le ultime novità di pool and beer c'è una ragazza asiatica Cindy bravissima che anche lei fa balletti e situation comedy che anche lei comunque segue diversi marchi c'è un'altra ragazza credo che sia milanese che si occupa di cura del capello in realtà ci sono già delle figure che si sono create la loro nicchia e soprattutto che sanno usare il mezzo cioè per cui sanno parlare di un prodotto ma utilizzando il gioco visivo e linguistico di tiktok che è il paradosso che è la transition ad esempio questa ragazza appare magari con i capelli lisci si squatte la testa e diventa riccia con i capelli blu e ti dice bene vuoi sapere come li ho fatti e allora ti fa vedere a ritroso fa una specie di montaggio su quello che è tutto il processo per arrivare ad avere i capelli ricci blu quindi in realtà l'attenzione è tenuta da questo gioco con questa continua sorpresa visiva allora Paolo per questa puntata la chiudiamo così è stata fantastica grazie mille no grazie a te e spero di riaverti come ospite per approfondire altri aspetti della comunicazione visiva quando vuoi sono sempre a tua disposizione grazie 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 ancora grazie grazie grazie